Ritorna sul territorio lucano la carovana della prevenzione di Come in Italia, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile che percorre l'Italia per avvicinare la prevenzione a tutte le donne. Tappa a Grassano e Garaguso oggi e domani e nei prossimi giorni a Sant'Arcangelo e Montemurro in Valdagri. Erogate prestazioni gratuite tra mammografie, ecografie, visite senologiche, ginecologiche, screening della tiroide, visita fisiatrica, visite con osteopata, consulenze nutrizionali e di psiconcologia. Nonostante la pioggia, solo stamane sono state effettuate oltre 50 visite e si proseguirà nel pomeriggio. Fondamentale il contributo di Procter & Gamble col patrocino del comune di Garaguso e della diocesi di Tricarico. Un plauso in particolare ai medici volontari delle aziende sanitarie lucane.